Sono tutti d'accordo, l'idea dell'amministrazione comunale di Lanciano, di una lunga fila di ombrelloni lungo corso Trento e Trieste per l'estate, piace ai commercianti e alle loro associazioni di categoria. Bella operazione di marketing territoriale, dicono Marisa Tiberio di Confcommercio, Viviana Natale di Confesercenti e Dario Buccella di Casa Artigiani, al termine dell'incontro in municipio con il sindaco Mario Pupillo e il neossessore Patrizia Bomba. Così si rivitalizza il commercio. Per noi di Confcommercio è stata l'occasione per conoscere il nuovo assessore Bomba e c'è stata una riunione con gli operatori per i Deors, c'è stata un'accoglienza massima da parte dell'amministrazione comunale ad andare incontro a questa categoria che purtroppo vive una ripartenza molto difficoltosa e che con la riduzione anche dei posti a sedere difficilmente riusciranno a tenere il conto economico delle loro attività. Il sindaco ci ha anticipato un'iniziativa apprezzabile e un'ottima operazione di marketing territoriale, sia per quanto riguarda la cittadinanza e quindi i consumatori, ma anche e soprattutto per gli operatori che soffrono il fatto di non vedere entrare persone nei negozi. Quindi un bonus spesa di 200 euro a nucleo familiare da spendere nei negozi del territorio di Lanciano. Una buonissima iniziativa per il commercio locale che è quella dei buoni spesa da spendere per ciascuna famiglia, per ciascun nucleo familiare. Abbiamo accolto favorevolmente questa iniziativa, come associazione probabilmente ci metteremo anche del nostro, quindi adesso incontreremo il direttivo e gli operatori e sicuramente aiuteremo questa iniziativa a decollare. Abbiamo parlato anche dei DEORS, quindi degli spazi esterni che il Comune sta gestendo in termini anche di ampliamento, quindi questa cosa non può che farci piacere, vediamo come si realizzerà. Abbiamo anche lavorato giorni scorsi con il sindaco sulla questione del mercato settimanale, anzi dei mercati settimanali. Abbiamo trovato una buona quadra, quindi stiamo lavorando. Certo, si viene da un periodo particolarmente difficile, preceduto da periodi non favorevoli, per cui insomma il commercio sta soffrendo con tutte le attività anche di pubblico esercizio. Quindi speriamo che queste iniziative possano portare beneficio agli operatori locali. Il sindaco ci ha spiegato un po' sulle ORS come verranno disposte al centro del corso. Da come ci ha prospettato sarà una bella visione vedere un corso pieno con questi ombrelloni molto chiari. Era un pensiero che avevo da sempre portare comunque la gente verso il corso e avvicinarli al territorio. Altra cosa importante, secondo me molto valida, è un buono che daranno di circa 200 euro da spendere per gli operatori all'interno della città. Questo permetterà un po', un minimo, di dare un'econocità al territorio. Un incontro con le associazioni di categoria, la prima volta per il neoassessore, ma sul tavolo anche dei temi molto importanti che tutte le associazioni hanno gradito. Allora, stamattina abbiamo cercato di trovare le soluzioni migliori per tutti. Abbiamo trovato anche degli accordi per i DEOS, per dare gli spazi, eccetera. Quindi quando prima cerchiamo di fare velocemente il tutto perché non si può aspettare. Abbiamo parlato con i rappresentanti di categorie, è stato un incontro, secondo me, positivo. È una predisposizione che ci convince, che sicuramente darà al nostro corso un'immagine diversa, più festosa. Stiamo predisponendo anche la somministrazione di un sottofondo musicale durante le ore serali e pomeridiane, approfittando con un annuncio che noi facciamo sempre per ricordare il distanziamento fisico e quindi uniamo le due cose. Quindi ci stiamo adoperando, quindi ringrazio l'assessore Bomba che si è subito gettata dalla mischia e ci sono altre provvidenze che oggi abbiamo segnalato alle associazioni di categorie, ovvero un bonus commerciale di 100.000 euro che noi metteremo a disposizione dei cittadini per attività commerciali che rientrano nelle prime necessità e che tra pochi giorni uscirà il bando per recuperare ovviamente gli aventi diritto. In più con il settore dei servizi sociali abbiamo predisposto una cifra di circa 50.000 euro, anche qualcosa in più se riusciamo sempre facendo i conti che l'assessore Adora Bendotti ha recuperato per un pronto intervento sociale per coloro che in questo momento sono in difficoltà nell'ambito ovviamente dei pagamenti sia locativi sia delle utenze. Mi piace sottolineare, e questo lo voglio dire, che questa è una volontà di tutta l'amministrazione, l'abbiamo condivisa anche con la minoranza e quindi questo è un segnale di una città che sta lavorando a prescindere i colori politici per sostenere i cittadini, soprattutto quelli più fragili che in questo periodo di Covid hanno sofferto e continuano a soffrire, e quindi anche le attività produttive. Con la sovrintendenza, devo ringraziare la sovrintendenza per averci dato questa flessibilità degli spazi davanti alle attività commerciali e ristorative che possono ampliare quindi la possibilità di ospitare un numero maggiore di utenti. Quindi siamo molto contenti, è un lavoro difficile, lungo, però vogliamo fare di tutto e di più per venire incontro a coloro che hanno bisogno.